DRIXY! D'odd'è DRIXY? Ah, ti ho provata finalmente eh? Gni! Mi puoi spiegare cosa è appena successo? Ti do l'opportunità di spiegarmelo prima di incazzarmi sul serio. Sai cosa? Che io sono stufa! Ti do l'opportunità di spiegarmelo prima di incazzarmi sul serio. Sono stufa di essere rappresentata da una campionessa che non c'è mai. Io me ne sbatto di questo campionato femminile che, tra l'altro, è una vera bufonata. E oltretutto sono in testa della classifica, lo sto già vincendo. Chiaramente sono la migliore. Quindi, dato che ho sentito che tu a novembre ci degnerai nuovamente della tua presenza... Wow! Ti voglio sfidare. Io esigo un match contro di te per quel titolo. Tu stai sfidando me a fai tuorever dolci, quindi. Esatto. Sai cosa ti dico? Tu pensi che la gente abbia paura di te perché sei la prima della classe. Sarò più che felice di darti una lezione, quindi accetto la tua sfida. Ma siccome sei così spavalta e coraggiosa, perché non rientriamo un po' la dose? Se vincerai il tuo match, lo vedo altamente improbabile, perdonami, ti porterai a casa questa. Ma se vincerò io, cosa che probabilmente accadrà, perderai tutti, tutti i tuoi preziosi punti del tuo match. Cosa mi dici? Sai cosa? Accetto! Cosa mi dici? 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 Grazie a tutti.